Siamo? Siamo pronti? Ok, buonasera, buonanotte! Noi siamo The Black Diamond, veniamo da Daisy, non vedavamo l'ora di suonare questo prossimo. Adesso, adesso già come figuraccio, la nostra prima canzone, è il Dodgy Band, è in California. Siamo? 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! Guardiamo subito bene per la nostra canzone di Red Dog. Grazie appunto per l'applauso. E la nostra prossima canzone... con Knock Your Levels Door e Guns N' Roses. One, two, three, four! 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione